Ad esempio, a proposito del vino, si può richiamare quanto Ovidio racconta nei fasti, a proposito della contesa tra Enea e Mezenzio, che si contendono appunto il favore di Giove, e la spunta Enea perché gli offre tutto il vino del Lazio, laddove Mezenzio invece non fa questa offerta e addirittura viene accusato di essere un contentor deum, cioè uno che disprezza gli dei. Allora, è chiaro che il tipo di gratificazioni che poteva venire a Giove dal vino, questa quantità immensa possiamo immaginare di vino, così come se ripensiamo al libro dei numeri e a questa curiosa richiesta di Yahweh, di un quarto di in di vino al sacrificio mattutino e al sacrificio vespertino, bevanda inebriante per il Signore, beh, si capisce chiaramente che il tipo di gratificazione che le divinità dovevano ricevere da questa bevanda era di tipo esclusivamente fisico. Allora, cari amici, eccoci qua di nuovo bentrovati, dopo la nostra ultima intervista che potete trovare con Alessandro Barbero su questo canale, oggi è un grande piacere essere qui con il professor Gian Matteo Corrias. Benvenuto, professore. Buonasera. 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 I romani usavano piuttosto termini come cultus deorum o res sacre, molto generico, questo termine res in latino ha davvero un utilizzo vastissimo. Re sacre è letteralmente le cose sacre. Religio esiste, dicevo, ma se noi volessimo studiare l'etimologia originale, uso questa definizione di etimologia originale, originariamente romana forse sarebbe meglio dire, è perché con l'affermarsi del cristianesimo questo termine è stato risemantizzato. Mi spiego meglio. Diverse fonti, tra le quali ad esempio Cicerone, affermano in maniera molto chiara che il termine religio derivi dal verbo re-leggere. Re-leggere letteralmente significa scegliere di nuovo e quindi scegliere in maniera scrupolosa, scegliere con cura, con attenzione, esercitare cioè un'azione attenta, accorta e scrupolosa. In questo senso il termine religio designa quello che è il carattere realmente centrale del sistema cultuale romano, ovvero sia quell'atteggiamento di attenzione che la parte umana della societas riserva all'altra parte, cioè della stessa societas, cioè quella divina. E in effetti è proprio questo ciò che capisco possa essere per certi versi sorprendente, però che ci dicono le fonti, ad esempio le fonti giuridiche, ci sono dei passi molto espliciti di un giurista, i cui testi sono confluiti nel corpus iuris civilis, che si chiama Ulpiano, in cui viene detto chiaramente che il diritto divino, ius sacrum, o ius divinum meglio, è una delle parti dello ius publicum, cioè del diritto pubblico, insieme allo ius umano. Ebbene, occorre osservare che questa scrupolosità nell'azione rituale è il carattere distintivo, essenziale, della religione romana, come cura e attenzione rivolta verso la natura divina, che, come ho detto prima, era ritenuta la parte apicale della società umana. Quindi si tratta di un sistema cultuale caratterizzato da una concretezza, per certi versi, spiazzante, al punto che una delle accuse, che a partire dall'interpretazione cristiana, che della religione romana è stata data, fino a tempi sorprendentemente vicini ai nostri, una delle accuse è che molto spesso è stata rivolta al culto romano, cioè quello di essere un vuoto sistema formalistico e ritualistico. Chiuderei questa primissima esplorazione, diciamo così, almeno del termine religio, tornando a quella risemantizzazione in età cristiana a cui facevo riferimento prima. E' in particolare un autore cristiano, che si chiama Lattanzio, che ci testimonia di questo avvenuto mutamento di dato semantico relativamente al termine religio. Infatti Lattanzio collega il termine religio non al verbo re-leggere, ma al verbo religare, che vuol dire collegare. Collegare attraverso, dice lui, il vincolo della pietas, il vincolo della devozione, gli esseri umani a Dio, che però in questo caso appare già connotato di quei caratteri di trascendenza, che però, occorre ribadirlo, nella religione romana e nel sistema cultuale romano, assolutamente non al verbo. Già diciamo da questa prima riflessione che lei ha fatto, possiamo vedere che ci sono molte cose spiazzanti per certi versi sorprendenti per noi, perché quando parliamo di religio appunto in ambito antico, non colleghiamo a quel concetto idee come fede o come morale o come etica, che invece per noi sono strettamente collegati dopo duemila anni, ovviamente di teologia e di lavoro su questi concetti. Magari potrebbe fare una riflessione, professore, anche sul fatto che lei in particolar modo si è occupato della religione e degli aspetti religiosi dell'epoca arcaica di Roma e non quella successiva, quando in realtà si sono poi prodotte quelle fonti che noi abbiamo utilizzato per capire quello che succedeva prima, quindi con anche una prospettiva distorta in un certo senso. Sì, partirei da quest'ultimo aspetto. Le fonti di cui noi disponiamo per lo studio della religione romana arcaica, e mi riferisco con questa definizione ai primi due secoli e mezzo della storia romana, se teniamo per buona la periodizzazione che ci viene offerta dalle fonti storiche, in base alle quali la storia di Roma inizierebbe alla metà dell'VIII secolo a.C., e la trasformazione che fu cultuale ma anche politica, quella trasformazione che produsse la nascita della Repubblica Romana, sarebbe avvenuta appunto nel 509 a.C. con la cacciata di Tarquino il Superbo, e la presa di possesso della città da parte delle più illustri famiglie aristocratiche romane. Ebbene, nel quadro di questa periodizzazione in cui c'è un prima, l'età monarchica, l'età arcaica, e un dopo, l'età repubblicana e poi l'età imperiale, quell'età che sinteticamente potremmo definire come propriamente storica, ebbene, occorre dire che le fonti, anche sul periodo arcaico, sono tutte, tutt'al più se volessimo proprio tornare indietro, del periodo primo repubblicano. Cioè non abbiamo sostanzialmente, salvo qualche attestazione epigrafica, fonti risalenti all'arcaismo romano. Eppure, nonostante questo, un tipo in particolare di fonti storiche, mi riferisco ai testi degli antiquari e degli eruditi romani, che per fortuna hanno svolto con una acribia e con un entusiasmo talvolta sorprendenti questo lavoro di ricostruzione e di scavo di quel periodo della storia di Roma che essi stessi dovettero percepire come particolarmente augusto, venerando, degno di attenzione, aurorale, fondativo della loro stessa identità culturale, ebbene, il lavoro di questi antiquari è condotto sulla scia di un atteggiamento che non esiterei a definire conservatore. Conservatore però a dir poco, perché come accennavo prima, nei confronti di quei due secoli e mezzo dell'età monarchica romana, gli intellettuali latini e in generale i romani avevano una considerazione quasi sacrale. Quindi davvero lo scrupolo fu quello di ricostruire quella fase della propria storia con una acribia che rende possibile l'utilizzo di queste fonti come documenti accreditati, accertati. Ebbene, a partire dallo studio delle fonti, è possibile forse fare una considerazione piuttosto generica, però anche piuttosto utile, per distinguere i caratteri essenziali del sistema culturale romano nel periodo propriamente storico, che è quello che ci è anche più familiare, bisogna dire, perché appunto noi siamo abituati a pensare agli dei romani fondamentalmente riferendoci al periodo augusteo, al periodo della rifondazione, della restaurazione del culto romano sotto Augusto, che smaccatamente intese il cultus deorum come un instrumentum regni, cioè quel richiamo alle origini, per cui, per esempio, a titolo di curiosità, ricostruì su base antiquaria alcuni sacerdozi antichi, come il Flaminato di Giove, che ormai erano estinti da diversi decenni, e per ricostruire i quali dovete appunto dare mandato ai propri studiosi, ai propri antiquari, di cercare tutte le fonti disponibili su questa figura così augusta del Flamine di Giove. Ebbene, però, occorre dire che si trattò semplicemente, insomma, non si trattò d'altro, mettiamola così, se non di una operazione archeologica o di archeologia cultuale, volta appunto a fondare l'istituto dell'impero, del principato, se vogliamo essere più precisi, che con Augusto stava nascendo. Nel periodo, soprattutto della Tarda Repubblica, e in particolare nel periodo imperiale, la religione romana appare fondamentalmente investita di questa funzione sociale e politica. Nel periodo monarchico le cose stavano in modo molto diverso, nel senso che appare chiaro in tutte le manifestazioni del cultus deorum arcaico che l'obiettivo era quello di garantire alla civitas romana l'equilibrio tra le due parti di cui essa si costituiva, la parte umana e la parte divina. Era ritenuto a tal punto essenziale per la sopravvivenza stessa della civitas il buon rapporto con la parte divina della società, il fatto di appunto custodire quella che in latino si chiama pax deorum, o in latino arcaico pax divum, cioè letteralmente l'accordo tra gli uomini e gli dèi. La radice del sostantivo pax è quella del verbo paciscor, da cui anche pactus, cioè è l'accordo letteralmente. Quindi non ha nessuna connotazione di tipo morale o sentimentale o spirituale, insomma questo termine in latino. E dicevo, lo scrupolo era talmente urgente, era percepito come qualcosa di talmente urgente che tutto il sistema cultuale è sottomesso, è subordinato a questa fondamentale istanza. Coglierei anche subito un stimolo che mi viene dalla sua precedente riflessione. lei ha utilizzato la parola fede, sottolineando come fondamentalmente questo sistema cultuale, il sistema cultuale romano, appaia sprovvisto nel suo esercizio concreto di riferimenti possibili a questa attitudine. Ed è essenzialmente vero. La questione storiografica, molto spesso sintetizzata in questioni del tipo ma i romani credevano nei loro dei, oppure, in riferimento al sistema cultuale greco, ma i greci credevano ai loro miti, è oggetto di alcuni studi, in particolare di ambito antropologico-culturale, notevolissimi. Mi permetto di richiamare a questo proposito un capitolo, il primo capitolo peraltro, di un studio molto valido di Dennis Finei che si intitola Letteratura e religione nell'antica Roma. Il primo capitolo è dedicato appunto alla questione della fede. Allora, con un'abbondante base documentale, qui viene fondamentalmente dimostrato che quello che istintivamente noi potremmo intendere, diciamo così, come un atteggiamento naturale, una facoltà ascrivibile alla natura stessa dell'essere umano, cioè l'atteggiamento della fede, dell'abbandono a una natura superiore, il concetto verbale, cioè di fede, in realtà nel sistema cultuale romano, ma direi nel sistema cultuale arcaico, non corrisponde a una capacità distinta dell'essere umano, una capacità naturale, e non corrisponde a una capacità distinta e naturale condivisa universalmente dagli esseri umani. In effetti, in particolare, gli studi di un antropologo che si chiama Nidam dimostrano che la fede è da intendere piuttosto come un concetto del tutto specifico della cultura cristiana. E Nidam lo collega in particolare alla centralità acquisita nella cultura cristiana dalle dottrine dell'incarnazione, della resurrezione e della redenzione. Quindi, di fatto, tutto questo discorso per dire che cosa? Che in realtà, porsi la questione se i romani credessero o meno nei loro dei, è, come dire, effetto di un vizio prospettico che rende del tutto infondata la questione stessa. Cioè non ha senso chiedersi in riferimento ai sistemi cultuali arcaici se si credesse o meno alle nature divine ai quali si riferiscono. Peraltro le sollecitazioni sono veramente tantissime. La prima cosa che magari chiederei di approfondire è proprio il concetto di Civitas che lei ha citato prima perché appunto Cicerone parlava di Civitas Comunis agli dèi e agli uomini. Cioè era la stessa città che conteneva entrambe queste cose e l'ha detta anche in un'altra maniera cioè che la religione era una branca diciamo così degli studi giuridici quindi c'era il diritto umano e c'era il diritto divino e facevano entrambe parte dello stesso capitolo. E poi viene da fare anche una riflessione di questo tipo qua siccome ha parlato degli antiquari molto che lavoravano con Acribia per raccogliere tutte le informazioni possibili sulle tarcaiche eccetera e quindi abbiamo molti dettagli cioè si vede un grande sforzo da una parte per regolamentare normare, formalizzare, codificare tutti gli aspetti della religione antica però dall'altra parte invece abbiamo un vuoto rispetto alla descrizione alla natura degli dèi stessi cioè i protagonisti di quell'ambito. Sì, allora partiamo dalla prima sua sollecitazione. Allora se dovessi sintetizzare in poche parole quali sono le caratteristiche essenziali del cultus deorum romano direi questo la religione romana appare caratterizzata da uno stretto formalismo dal fatto di essere una religione civica e dal fatto di essere una religione giuridica. Cerchiamo di chiarire meglio soprattutto questi ultimi due aspetti visto che del primo ci siamo già almeno in parte occupati. Partiamo, forse può essere utile da un testo perché si capisce proprio in maniera in maniera diretta e intuitiva quello di cui stiamo parlando. Allora voglio citare un passaggio del Decivitate Dei di Agostino in cui il dottore della Chiesa cita un passo di un antiquario romano questo è interessante molti passaggi di opere di questo autore e di altri questo autore si chiama Marco Terenzio Varrone un autore del primo secolo avanti Cristo noi ce li abbiamo per tradizione indiretta cioè ce li abbiamo grazie ad autori cristiani che si occupano di citare questi testi per contestarli in genere. Allora dice Agostino citando Varrone Varrone afferma di aver trattato prima delle cose umane poi di quelle divine per il fatto che prima sono esistite le Civitates e in seguito da esse sono stati istituiti i culti degli dei. Il criterio sulla base del quale il Varrone ammette di aver scritto prima delle cose umane successivamente di quelle divine è questo come il pittore viene prima del quadro dipinto e il costruttore prima dell'edificio così le Civitates vengono prima di ciò che da esse è stato istituito. Allora può essere sconcertante anche una affermazione di questo tipo ovviamente poi Agostino ironizza su questa affermazione che però per noi è particolarmente rivelatrice cioè per la sensibilità romana è presentato come un dato ovvio persino scontato che prima venga la Civitas cioè l'istituzione umana la fondazione del contesto di esistenza comune dopodiché all'interno della Civitas venga istituito il cultus dei. Questa per noi curiosa inversione prospettica perché insomma noi a partire dal testo della Genesi siamo abituati a pensare a una relazione tra l'umano e il divino che sta esattamente in termini antitetici rispetto a questo cioè abbiamo un Dio che ex nihilo dal nulla crea tutte le cose corona la sua creazione con la creazione degli esseri umani i quali poi creano la loro società. Ecco qui la prospettiva è esattamente opposta. in questo quadro occorre di nuovo richiamare un aspetto che ho già citato prima cioè il fatto che gli dei non appaiano collocati nella percezione che i romani ne avevano in una dimensione altra rispetto alla Civitas appaiono invece inseriti in maniera perfettamente coerente all'interno di questo spazio civile comune e addirittura addirittura se diamo fede alle fonti sottomessi allo stesso diritto. Posso citare a questo proposito diverse fonti ma molto utili possono essere due passaggi di Cicerone in particolare del Delegibus e del Definibus cito in traduzione noi uomini dobbiamo considerarci associati agli dei anche in virtù della legge e certo fra coloro tra i quali c'è comunanza di leggi esiste anche comunanza di diritto dei e uomini nella Civitas appaiono soggetti allo stesso sistema giuridico soggetti allo stesso sistema di regolazione della convivenza comune. E ancora il mondo è come una dimora comune degli dei e degli uomini ovvero la città di entrambi infatti solo coloro che usano la ragione vivono secondo il diritto e la legge qui addirittura ci si dice che gli dei sono esseri razionali. Mi viene in mente professore se posso fare una battuta che noi ci ricordiamo quello che disse Gesù nei Vangeli il mio regno non è di questo mondo di fronte a Pilato invece qui è una situazione completamente rovesciana. Il regno è proprio di questo mondo e persino il regno degli dei non è il regno dei cedi ancora per stare nelle citazioni evangeliche ma è il regno di questa terra più specificamente attenzione non il mondo l'intero cosmo ma la civitas tant'è che ancora Cicerone altrove afferma in maniera che più chiara non si potrebbe desiderare sui qui quecivitati religio ogni civitas ha la sua religione cioè ha il suo sistema cultuale ora a questo proposito potrebbe essere utile richiamare subito una particolarissima pratica religiosa romana legata appunto al diritto bellico romano ce ne parla un antiquario erudito grammatico commentatore di virgilio che si chiama servio mi riferisco alla pratica dell'evocazio che cos'era l'evocazio ne parla in riferimento alle guerre puniche e all'attacco che l'esercito romano si preparava a sperrare alla città di cartagine servio ci dice che prima di procedere alla conquista di cartagine ma questo avveniva in generale prima dell'assedio di qualunque città straniera l'esercito evocava dalla città cioè chiamava fuori dalla città il dio tutelare di quella città il dio al quale quella città quella civita rendeva speciale culto e con il quale aveva stretto un patto molto speciale molto stretto di alleanza questo evocare il dio fuori dalla città poteva avere effetto soltanto se dall'altra parte gli si proponeva gli si prometteva un culto ancora più ricco più sfarzoso e più abbondante quindi si tratta di una proposta di miglioramento di status diciamo così se vieni da noi e lasci questa città ti troverai molto meglio e questo per evitare che appunto il dio tutelare della città in seguito all'assedio potesse reagire devastando l'esercito quindi tutti gli dèi hanno un prezzo si potrebbe dire tutti gli dèi hanno un prezzo e tutti gli dèi si possano in qualche modo comprare al punto che a Roma questa diventa a un certo punto ma direi che questa pratica inizia a prendere piede già alla fine dell'età monarchica il pantheon romano inizia ad accrescersi in maniera indefinita di fondamentalmente tutte le divinità con le quali Roma entra a contatto nel suo straordinario esploit di conquiste in tutto il mondo allora conosciuto cioè Roma fa esattamente l'inverso rispetto a quanto noi possiamo attribuire ad esempio alla conquista tra virgolette cristiana del mondo cioè l'imposizione della religione cristiana a Roma veniva esattamente il contrario quando Roma inizia ad aprirsi al mondo con le conquiste la guerra sannitica in poi delle guerre puniche eccetera Roma acquisisce nel proprio pantheon le divinità e i culti ad essere collegati con i quali viene a contatto allora diciamo la domanda successiva passando proprio dal religio invece proprio agli dei come si rappresentavano come si raffiguravano i romani i loro dei nel senso che sappiamo che c'erano delle forme anche di almeno inizialmente di aniconismo per cui non c'era eccola esatto infatti la risposta alla domanda come i romani si rappresentavano i loro dei è questa non li rappresentavano e lo affermo in maniera apodittica perché prima che Roma entrasse a contatto con la cultura e la sensibilità etrusca prima e greca poi a Roma mancava assolutamente qualsiasi forma di rappresentazione materiale in termini figurativi della divinità specifico in termini figurativi perché invece esistevano delle rappresentazioni aniconiche della divinità il che a rifletterci bene è la prova proprio dell'aniconismo fondamentale della religione romana ad esempio è noto che una divinità come Marte era rappresentata secondo le fonti ce ne parla per esempio Plutarco nella vita di Romolo era rappresentata semplicemente come un'asta un'asta che era custodita nella regia che era la dimora del Rex si può citare ancora il caso dello Jupiter Lapis il Giove pietra che è la più antica più arcaica rappresentazione di Giove una pietra la pietra del fulmine cosiddetta che tra l'altro è un elemento costante in diversi sistemi cultuali oppure il caso di Vesta la dea del fuoco la quale non ebbe mai neanche in epoca storica una rappresentazione iconografica fu sempre scrupolosamente identificata con il fuoco quel fuoco che ardeva continuamente all'interno della Edes Vesta cioè della dimora di Vesta vorrei precisare che questo carattere aniconico della religione arcaica romana è interpretato proprio da quegli autori a cui si faceva riferimento prima cioè particolare dagli antiquari come un carattere non solo distintivo ma anche di merito dell'antico culto romano ad esempio Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia afferma chiaramente che cercare un'immagine e una raffigurazione della divinità io penso che sia da ascrivere alla debolezza umana e ancora Varrone afferma questo coloro che per primi innalzarono per i popoli simulacri degli dei hanno liberato i loro concittadini da un timore ma hanno introdotto un'idea erronea a questo punto direi che è quasi naturale l'associazione con il radicale aniconismo del culto ebraico prescritto direttamente da Yahweh il quale ordina appunto senza fraintendimenti possibili che non ci si deve fare immagini né di ciò che sta nel cielo né di ciò che sta sulla terra quindi un iconismo radicale totale cioè non era possibile rappresentare realisticamente figurativamente nulla neanche divinità neanche scusa chiedo scusa elementi della vita umana della vita naturale della vita quotidiana Yahweh afferma chiaramente in più occasioni di essere un dio geloso ecco qui ne abbiamo una prova piuttosto interessante peraltro si tratta di un difieto mai revocato nemmeno nel cristianesimo come sottolineerebbe Mauro Biglino per cui in teoria ancora in atto ma tradito insomma dalle pratiche ben diverse invece che conosciamo oggi rispetto alla religione sì a proposito di questo mi viene in mente che è stato uno dei compiti che la riflessione teologica fin dai primi secoli si è si è attribuito quello di appunto giustificare la rappresentazione del sacro del divino per esempio mi viene in mente l'opera di San Giovanni Damasceno che durante il periodo dell'iconoclastia giustifica la l'opzione della rappresentazione delle icone come strumento di avvicinamento al divino però è vero che quella perentorio di vieto biblico dovrebbe essere tuttora in vigor però lei professore diciamo per via comparativistica ha provato nei suoi studi a tracciare un fenotipo di quelli che potevano essere diciamo i tratti degli dei certo diciamo che tutto è nato da semplice curiosità però molto spesso approfondendo quelle che viviamo inizialmente come curiosità vengono fuori delle cose anche piuttosto interessanti mi sono accorto del fatto che il repertorio dei cognomina romani cioè dei nomi di famiglia diciamo chiamiamoli così era il terzo dei triannomina romani di cui si costituiva il nome di ogni cittadino romano dunque dicevo il repertorio dei cognomi naromani presenta delle caratteristiche piuttosto curiose a dire la verità sono partito da un cognome illustre che è Cesaro di cui un autore delle storie auguste che si chiama Elio Sparziano dice che è da spiegare con il riferimento a un preciso specifico colore degli occhi colore Cesius che è un colore celeste molto chiaro e molto luminoso assieme a questo a questo cognome ce ne sono tanti altri per esempio lo stesso Cesius che significa la stessa cosa oppure ancora Albinus che fa riferimento al biancore al candore della pelle del bambino oppure ancora a Rufus che fa riferimento invece a un particolare colore dei capelli biondo fulvo biondo rossiccio oppure ancora Geminus o Gemellus nato per parto gemellare Longus cioè lungo di grande statura ebbene una serie di caratteristiche che se uno amplia un pochino lo sguardo ad altri sistemi cultuali per esempio altri sistemi cultuali indoeuropei o sistema cultuale ebraico si rende conto che si tratta di elementi ricorrenti ad esempio posso citare a proposito del concepimento gemellare quanto ci si dice nella nella Bibbia oppure ancora nel libro etiopico di Enoch a proposito della nascita di Noè il quale nasce con una carnagione molto chiara con gli occhi chiarissimi e i capelli fulvi e appunto suo padre stesso non lo riconosce e anzi si lascia scappare un'affermazione come questa ma questo non è dei nostri questo è un figlio degli angeli anche il re Davide era rosso anche il re Davide era rosso e non parliamo poi di molti eroi omerici come Menelao Achille dai capelli dai capelli biondi un fenotipo ritenuto particolarmente estraneo alla media o alla norma se vogliamo dicevo del cognome Longus ad esempio si può richiamare un testo del canone avestico in cui a proposito della nascita per il fianco cioè della nascita per taglio cesareo come poi in effetti questa pratica chirurgica sarà battezzata nel diciottesimo secolo a partire proprio dal modo in cui sarebbe nato Giulio Cesare e in effetti questa è un'altra spiegazione del cognome Cesare che ci fornisce Elio Sparziano cioè nato per il fianco cioè ex ceso ventre dalla pancia tagliata della madre ovviamente o enecta parente dalla madre morta perché la madre non sopravviveva a un'operazione chirurgica di questa entità ebbene in questo testo dicevo del canone avestico si spiega in maniera esplicita che l'unica ragione per cui un bambino nasceva per il fianco attraverso il taglio del ventre era la grande statura del feto eccessiva rispetto alle dimensioni del canale uterino e della vagina insomma mettendo insieme tutti questi elementi alla fine quello che ne viene fuori però è un preciso fenotipo che è il fenotipo tipicamente nordico caratterizzato appunto da tutti questi tutti questi caratteri che abbiamo già elencato cioè la grande statura i capelli fulvi la carnagione molto chiara questi occhi poi cerule i bianni molto chiari grigiastri ecco perché questa caratterizzazione fenotipica può far pensare a una possibile fisionomia divina perché il retore quintiliano ad esempio ci chiarisce che perché una caratteristica legata o al modo in cui il bambino è nato o all'aspetto fisico del bambino o a ciò che è successo dopo la nascita del bambino fosse capace di determinare l'attribuzione del cognome si doveva trattare di qualcosa di davvero straordinario non una caratteristica comune o facilmente registrabile anche in altre occorrenze allora questa straordinarietà noi potremmo anche intenderla come del resto si può leggere nelle fonti per cui il colore degli occhi è attribuito in maniera esplicita esplicita a una natura sovrumana dice Elio Sparziano potrebbe appunto dicevo restituirci l'immagine di quelli che per la sensibilità romana erano gli dei caratterizzati in questo modo una conferma esterna a questa ipotesi a questa intuizione potrebbe venirci appunto dagli altri sistemi rituali che abbiamo citato presso i quali regolarmente questi caratteri somatici sono attribuiti in maniera chiara in maniera inequivocabile appunto agli dei o a quegli esseri che in questo modo vengono definiti questi dei questi individui di cui abbiamo tentato una descrizione avevano anche se torniamo un attimo alle forme del culto a Roma ma non solo come abbiamo detto anche in altre religioni arcaiche delle esigenze anche ben definite ben precise infatti una delle forme del culto più importanti a Roma lei prima ha citato una pratica come l'evocazio ma una delle forme più importanti non solo a Roma anche in altri ambiti era proprio quella invece dei sacrifici dei sacra sì il sacrificio è la pratica centrale del sistema cultuale romano è l'essenza stessa del culto è vero che ci sono anche altre altre pratiche cultuali però diciamo così il sacrificio intanto le compendia in genere tutte e poi è davvero l'irrinunciabile l'elemento irrinunciabile nel rapporto tra gli dei e gli uomini che cos'è il sacrificio che cos'era il sacrificio e che cosa dobbiamo intendere con questo termine il sacrificio di fatto è il trasferimento di un bene in genere un bene alimentare animale o vegetale dal possesso degli uomini alla proprietà esclusiva degli dei in effetti consacrare rendere sacer e qui dovremmo forse spiegare un attimo il significato di questo termine in latino significava appunto togliere dall'insieme delle cose di proprietà degli uomini un elemento per riservarlo alla divinità ciò che è sacer è appunto offerto in maniera esclusiva e messo da parte per essere riservato agli dei questo peraltro è il significato proprio del termine sacer che viene da una radice indoeuropea che non significa altro che questo cioè togliere dall'insieme e riservare a mettere da parte questo è tanto vero che l'aggettivo sacer può avere indifferentemente una connotazione di tipo positivo oppure negativo nel senso che rendere qualcuno o qualcosa sacer poteva significare o consacrarlo in positivo agli dei come offera gradita agli dei oppure votarlo agli dei per una punizione mi viene in mente un testo piuttosto celebre che è l'iscrizione del lapis niger testo molto antico testo che risale al sesto secolo avanti cristo in cui appunto si legge che chi osi violare quel confine il confine marcato dalla pietra nera dell'apis niger sacer esto sacros esed il latino arcaico cioè sia sacer ma non sia sacer nel senso che appunto si potrebbe pensare sia consacrato agli dei ma sia votato alla distruzione alla punizione divina sia cioè escluso dal consesso umano e sia consegnato agli dei perché lo puniscano questa esclusione dal consesso umano secondo le fonti giuridiche peraltro si caratterizza in maniera molto chiara come una esclusione dalla fruizione dei diritti umani cioè al punto che i giuristi affermano che chi uccida un uomo che sia sacer in questo senso qui non commette omicidio perché per quell'individuo i diritti umani sono sospesi e quindi ucciderlo non comporta un'azione moralmente e legalmente condannabile come l'omicidio allora torniamo al sacrificio di cui parlavamo come si caratterizza questa offerta di un bene appunto alimentare intanto sottolineerei il fatto che l'offerta gradita al Dio è in genere un bene un bene alimentare e più precisamente alcune parti che erano le parti riservate al Dio complessivamente queste parti riservate agli dei nei sacrifici vengono definite extra in latino si tratta fondamentalmente delle interiore ci sono classificazioni e numerazioni leggermente discordanti nelle fonti però fondamentalmente negli extra c'era il fegato il cuore la vescica i reni ecco queste sono le parti riservate alla divinità quelle parti che erano sempre totalmente e assolutamente escluse dal consumo umano questo è opportuno osservarlo perché il sacrificio era a Roma in genere inteso come un banchetto in cui gli uomini erano invitati alla tavola degli dei la parte riservata agli uomini era il resto della carne che veniva tecnicamente si dice profanata profanari lo spiega Festo significa letteralmente collocare fuori dal fanum il fanum era il recinto sacro quindi togliere dalla dimensione appunto della sacralità nel senso che dicevamo prima cioè inizialmente tutto l'animale veniva consacrato alla divinità una parte poi veniva sconsacrata diremmo noi oggi o profanata e questa parte poteva essere consumata dagli esseri umani che partecipavano al banchetto divino ora oltre a questi elementi degli extra poi potremmo citare ma qui si va verso veramente dentro la macelleria sacra mi viene in mente quella definizione che peraltro è di un cardinale della chiesa cattolica di sacro materialismo ma qui veramente si tratta di questo cioè ci sono delle prescrizioni molto puntuali che ci fanno venire in mente peraltro prescrizioni non meno dettagliate nel levitico sulle parti gradite dell'animale gradite a Yahweh con il grasso sopra i veni conservato eccetera insomma delle indicazioni di macelleria sacra ecco per completezza di informazione oltre agli extra c'erano anche quelli che venivano chiamati augmentum e magmentum cioè delle parti aggiuntive che coincidevano in genere o con il grasso surrenale l'augmentum o con l'omentum cioè il il peritoneo fondamentalmente e il grasso il grasso viscerale che era invece il magmentum cioè l'offerta complementare perché appunto il dio fosse ancora più soddisfatto della della offerta ora come dobbiamo intendere questa offerta alimentare era un'offerta simbolica oppure c'è qualcosa di più allora io direi che in epoca storica sicuramente come tutto il sistema cultuale va acquisendo uno statuto la cui intervenuta razionalizzazione è evidente si tratta di un sistema di regolazione dei rapporti sociali nel periodo arcaico le cose stanno in modo molto diverso tant'è che il verbo tecnico che veniva utilizzato per appunto indicare l'atto sacrificale è il verbo maktare ora il verbo maktare viene spiegato dalle fonti in particolare possiamo citare il grammatico serbio in questo modo maktare significa bruciare in sacrificio infatti maktare significa propriamente accrescere ulteriormente cioè maktare nascerebbe secondo l'analisi che ne offre servio da magis augere accrescere ulteriormente il problema è che questo accrescimento stando all'etimologia del termine è un accrescimento di tipo fisico cioè rendere il corpo più grande aumentarne il volume ecco in qualche modo quindi siamo ancora una volta messi di fronte a una dimensione che è assolutamente immanentistica e che si risolve via esclusiva nel quadro di uno stretto immanentismo a conferma di questa prospettiva potremmo citare ad esempio l'apprezzamento che a Roma come in altri sistemi culturali arcaici gli dei sembrano riservare al vino e in generale alle sostanze inebrianti ad esempio a proposito del vino si può richiamare quanto Ovidio racconta nei fasti a proposito della contesa tra Enea e Mezenzio che si contendono appunto il favore di Giove e la spunta Enea perché gli offre tutto il vino del Lazio laddove Mezenzio invece non fa questa offerta e addirittura viene accusato di essere un contentor cioè uno che disprezza gli dei allora è chiaro che il tipo di gratificazioni che poteva venire a Giove dal vino questa quantità immensa possiamo immaginare di vino così come se ripensiamo al libro dei numeri e a questa curiosa richiesta di Yahweh di un quarto di in di vino al sacrificio mattutino e al sacrificio vespertino bevanda inebriante per il Signore beh si capisce chiaramente che il tipo di gratificazione che le divinità dovevano ricevere da questa bevanda era di tipo esclusivamente fisico ecco allora diciamo proprio ponendoci queste domande riflettendo su queste sue riflessioni che hanno implicazioni secondo me straordinarie e controverse volevo chiedere visto che lei comunque ha fatto dei particolari approfondimenti sulla parte esoterica diciamo del culto del culto romano e anche adesso ha nominato diciamo l'Evocazio e quindi insieme all'Evocazio anche così tutta la questione del nome segreto di Roma e della necessità di tenere nascosti i nomi delle divinità tutelari di una particolare città eccetera che tra l'altro mi fa pensare di nuovo per tornare alla Bibbia al fatto che appunto è il nome di Yahweh io sono colui che è io sono io sono colui che sono ecco che cosa possiamo dire diciamo di questo sì allora io all'argomento ho dedicato un intero libro quindi per ovvie ragioni ora mi dovrò limitare a una rapidissima esposizione sintetica però la cosa che mi ha spinto a indagare in questa direzione è quell'immagine che dagli studi storico-religiosi si è un pochino affermata del culto romano come un culto di matrice esclusivamente esoterica formalistica volta semplicemente a regolare i rapporti interni alla civitas i culti di carattere iniziatico e misterico sarebbero un apporto esclusivamente esterno a partire dal momento in cui intanto Roma inizia ad aprirsi al mondo appunto con le conquiste e poi la sensibilità e la cultura romana evolvono nel senso di un individualismo sempre più marcato che poi apre la strada anche a istanze di tipo di tipo soteriologico e misterico questa è la lettura canonica che si ritrova per esempio a partire da Franz Cumont oppure da Walker Burkert nei tempi più recenti e più vicini ai nostri io riflettendoci mi sono chiesto ma è possibile che degli apporti cultuali talmente estranei alla sensibilità romana siano stati così facilmente così profondamente anche integrati all'interno di un sistema cultuale all'interno del quale avrebbero dovuto essere percepiti come dei veri e propri corpi estranei e in effetti mi pare di aver trovato delle tracce di una dimensione cultuale diciamo così di carattere iniziatico è tecnicamente esoterico ma non dobbiamo ovviamente pensare all'esoterismo così come la vulgata ce lo rappresenta cioè che ne so queste pratiche che nel peggiore dei casi approdano al satanismo non si tratta di questo si tratta di sistemi cultuali opzionali rispetto alla religione maggioritaria che hanno sintetizza in maniera estrema il carattere dei culti esoterici secondo gli studi storico-religiosi e quei culti esoterici avrebbero come obiettivo fondamentale quello di produrre un passaggio di stato da un livello dell'essere ad un livello dell'essere superiore in una ideale risalita verso l'unità principiale che è poi l'obiettivo ultimo o meglio l'unione con il quale principio con la quale unità principiale rappresenterebbe in questa stratificazione di piani ontologici l'obiettivo ultimo del miste cioè di colui che si dedica per il proprio perfezionamento personale ai culti misterici e in particolare mi pare di aver ravvisato nei culti legati ad alcune divinità romane degli elementi di carattere marcatamente iniziatico orgiastico entusiastico e in particolare mi riferisco ai culti del dio fauno con il rituale dei lupercalia del dio libero con la sua paredra la dea libera e della dea cerere in particolare con riferimento al culto del mundus cereris sintetizzo perché guardate qui si tratta veramente di questioni molto ampie quindi davvero si tratta di fare uno sforzo di sintesi notevole ecco per esempio Sant'Agostino ancora una volta con intenzione polemica parla del culto di libero come di un culto osceno caratterizzato da processioni falloforiche in cui le auguste compassate matrone romane si abbandonavano a delle delle pratiche anche sessualmente esplicite che lui dal suo punto di vista cristiano condanna in maniera in maniera chiara ecco non è un caso che proprio il culto di libero si caratterizzasse in questo modo perché poi quando libero verrà risemantizzato attraverso quel fenomeno che si definisce interpretatio greca interpretazione greca delle divinità romane verrà appunto identificato con il dio bacco e gli verrà anche acquisito quel culto orgiastico che sono i baccanali non è un caso appunto che proprio il culto orgiastico di bacco si colleghi alla culto di libero il quale già disponeva come attesta Sant'Agostino di questa caratterizzazione di tipo orgiastico cioè il culto di bacco il culto orgiastico di bacco intendo dire questo non arriva dal nulla e io ritengo che non sarebbe neanche stato possibile acquisirlo in maniera integrale se non ci fosse stato già a Roma qualche elemento che avesse supportato e reso possibile questa assimilazione la stessa cosa vale ad esempio per il culto dei misteri eleusini che a Roma vengono acquisiti appunto dalla Grecia i misteri eleusini erano il più augusto culto non olimpico ma misterico del sistema religioso greco ebbene Cerere come dicevo a Roma già nella Roma arcaica era legata a una pratica cultuale piuttosto misteriosa occulta et abdita religio la definiscono le fonti cioè festo in particolare cioè religione occulta e nascosta il mundus Cereris era una cavità sotterranea a forma di volta che intenzionalmente riproduceva la volta celeste ma nel mondo infero e il mundus Cereris veniva aperto tre volte all'anno e in quel momento era resa possibile la comunicazione tra il mondo infero e il mondo superiore anche in questo caso a me pare evidente che la natura di questo culto così misterioso però definito in maniera inequivocabile dalle fonti come religio occulta religio misteriosa e quindi probabilmente anche misterica ecco abbia poi supportato l'integrazione dei misteri e leusini a Roma un caso di esoterismo tutto romano invece è il caso dei lupercali in cui due giovani del collegio religioso dei luperci veniva sottoposta a una serie di pratiche da carattere evidentemente simbolico in cui si può peraltro ravvisare il meccanismo della sostituzione della vittima sacrificale perché venivano sacrificati due capri con il cui sangue poi i giovani venivano bagnati sulla fronte quella traccia di sangue sulla fronte veniva successivamente cancellata con un panno immerso nel latte allora questi gesti simbolici a leggerli alla luce insomma della sintassi misterica che insomma è nota con particolar riferimento ripeto rispetto ai culti eleusini alludono a quel processo di morte iniziatica e rinascita a una vita nuova cioè quel passaggio di stato ontologico a cui mi riferivo prima che è il fondamento di qualsiasi culto ontologico con tutta probabilità mi spingerei a dire che i capri appunto sono sono stati introdotti successivamente per sostituire i due giovani che con tutta probabilità inizialmente erano loro le vittime sacrificali quindi a questo punto si aprirebbe anche il discorso sui sacrifici umani che insomma è un altro capitolo piuttosto interessante della religione romano-arcaica però mi chiedevo professore tutta questa parte è molto interessante ma è possibile per via naturalmente completamente congetturale qui pensare all'idea alla possibilità che questi culti iniziatici misterici eccetera fossero il veicolo attraverso cui si trasmetteva forse anche la ragione prima di quello che dicevamo prima cioè se per esempio i sacrifici l'aspetto pubblico della religione romana erano simbolici oppure se avvenissero veramente e se partecipassero a questi sacrifici quelle individualità divinità che abbiamo descritto all'inizio del nostro racconto è assolutamente probabile io direi che a meno di non ipotizzare una sorta di schizofrenia all'interno del sistema cultuale romano arcaico dobbiamo intendere i culti esoterici o caratterizzabili in senso esoterico come appunto il fondamento vero dell'intero impianto cultuale oltre i culti che citavo prima potremmo a questo punto citare altre pratiche cultuali in cui questa intenzione fondativa e di sostegno della della civitas romana medesima sono ancora più evidenti e sono in particolare il culto della divinità tutelare di Roma il cui nome doveva essere scrupolosamente tenuto segreto è il nome segreto della stessa città di Roma le fonti sono ancora una volta gli antiquari antichi in particolare Macrobio a questo punto ma anche i soliti grammatici che citavo prima Festo Servio a cui potremmo aggiungere l'erudito tardo Solino i quali appunto parlano in maniera piuttosto esplicita non solo dell'esistenza di un culto della divinità tutelare di Roma e del nome misterico iniziatico di Roma ma anche di un episodio particolare che viene ribadito da numerose fonti quello per cui un magistrato romano avrebbe a un certo punto pretore avrebbe a un certo punto rivelato il nome della divinità tutelare di Roma oppure secondo altre fonti il nome stesso iniziatico di Roma questo gli sarebbe costato ovviamente la pena capitale la ragione di questa severità nella punizione di chi rivelasse non si sa bene poi in quale modo egli fosse venuto a conoscenza di questo di questo nome che doveva essere segretissimo legato appunto al culto che era il culto ondante della stessa Civitas non sappiamo appunto in che modo ne fosse venuto la conoscenza però ecco la cosa da osservare è che la ragione per cui il nome della divinità tutelare o della stessa Roma il nome segreto della stessa Roma dovevano essere tenuti nascosti è da ricercare con tutta probabilità in quella pratica religiosa molto specifica molto particolare che citavo prima cioè la pratica dell'evocazio e ancora una volta appunto torniamo allo strettissimo legame che esisteva tra nella concezione romana tra la Civitas e la divinità sotto la tutela speciale della quale la Civitas era posta direi a passant che il fatto che Roma come tutte le altre città nella concezione romana avessero una divinità tutelare che era una divinità unica non escludeva poi la compresenza all'interno dello spazio della Civitas di una miriade di divinità perché a Roma le divinità il pantheon era costituito da davvero centinaia e centinaia di divinità alle quali se ne aggiungevano continuamente di nuove come dicevo prima esiste poi un criterio sulla base del quale la società divina è organizzata che è un criterio strettamente funzionale cioè non tutte le divinità hanno le stesse competenze le stesse prerogative e neanche la stessa importanza a Roma il mondo divino appare strettamente gerarchizzato sia per dignità sia per funzione in questo direi che è forse da ravvedere la differenza più significativa tra il culto romano e il culto ebraico in cui invece Yahweh sembra assommare sembra voler accentrare in sé tutte quante le funzioni oltre che tutta l'intenzione cultuale del popolo ecco però a Roma per chiudere è assolutamente possibile vedere in questa dimensione esoterica l'abbiamo chiamata così o misterica se preferiamo il fondamento dell'intero sistema cultuale questo vale anche per gli altri culti iniziatici per esempio vale anche per i lupercali perché dopo questa prima parte della liturgia in cui i giovani venivano prima bagnati col sangue e poi detersi col latte i giovani dovevano circumambulare il palatino e questa forma diciamo così di comprensione dello spazio primigenio della città aveva il valore di una vera e propria lustrazio cioè di una cerimonia di protezione dello spazio vitale della città c'è il riferimento poi alla figura del lupus che probabilmente è collegato al nome di questo collegio sacerdotale però qui insomma non voglio neanche spingermi troppo troppo oltre quindi in sintesi ripeto tutto il sistema cultuale romano convergeva verso questo che è l'obiettivo che appare essere unico e fondante dell'impianto della religione romana la preservazione di Roma tant'è che mi viene in mente quando poi alla fine i barbari invasero la città di Roma e gli ultimi decenni dell'impero d'Occidente furono angustiati tormentati dalle vicende che sappiamo fino al trasferimento della capitale a Ravenna e la destituzione dell'ultimo imperatore l'aristocrazia romana con fermezza e con pienezza di convinzione puntò il dito contro la sostituzione cultuale del cristianesimo alla religio dei padri individuando in questa empia sostituzione cultuale la causa fondamentale della rovina dell'impero romano allora professore andiamo non diciamo così verso la conclusione mi veniva in mente le faccio diciamo la domanda finale da 100 milioni mi veniva in mente uno scrittore recente contemporaneo cristiano che ha scritto ipotesi su Gesù un libro divulgativo di qualche insomma di qualche anno fa e allora se noi volessimo invece fare ipotesi sugli dei dell'antica Roma abbiamo detto che non sono sono mortali sono potenti ma non sono onnipotenti hanno maggiore sapienza degli uomini ma non sono onniscienti quindi diciamo per via comparativistica sempre ci si può avvicinare a formulare un'ipotesi sulla loro natura sulla loro origine allora sulla loro origine non direi che si possono fare ipotesi sensate almeno in riferimento al culto romano anche perché appunto tutto ciò che possiamo inferire sugli dei romani sugli dei autenticamente romani ci viene proprio dal dispositivo cultuale gli dei romani sembrano avere un'esistenza a volte limitata allo spazio più o meno breve in cui si risolveva la liturgia prescritta dal calendario non abbiamo cioè delle storie legate a queste figure come invece avviene per gli dei vedici o per lo stesso Yahweh quindi questa carenza di testi ma alla base c'è una carenza proprio di mitologia legata al culto degli dei a Roma probabilmente anche in questo caso si tratta di una forma di riverenza verso la natura divina quindi non ci consente di formulare riflessioni sull'origine degli dei certamente però la loro natura appare piuttosto vicina a quella di queste figure divine così come la si può osservare e studiare in altri sistemi cultuali arcaici tant'è che appunto come lei richiamava all'inizio della nostra chiacchierata io dedico una parte una parte conclusiva del mio saggio gli dei di Roma antica proprio alla esplorazione in ottica comparativistica delle caratteristiche di questi di questi individui perché di individui si tratta di individui caratterizzati lo dirò in maniera molto sintetica secondo una modalità evidentemente e indiscutibilmente immanentistica cioè si tratta di individui che hanno non solo un'identità ma addirittura una personalità una tempra un carattere inclinazioni speciali sono più o meno sensibili a certe cose sono più o meno ben disposti nei confronti degli esseri umani appaiono appaiono anche molto spesso se posso ingegni mi viene in mente un episodio legato a a Giove che contratta alla fine con Numa con il re Numa l'istitutore leggendario del culto del culto romano che contratta una serie di cose facendosi infinocchiare bellamente quindi direi che fondamentalmente siamo nel quadro di quelle che come dicevo prima Petazzoni definiva religioni antiche in cui questo tipo di caratterizzazione della divinità in cui peraltro l'orizzonte nel rapporto tra l'uomo e il dio è un orizzonte puramente terreno in cui manca cioè ogni prospettiva di tipo soteriologico appare essere appunto l'elemento caratterizzante l'orizzonte è sempre quello della vita della vita terrena se gli dei promettono qualcosa è benessere e se possono garantire qualcosa è benessere prosperità la stessa sopravvivenza in questa vita tant'è per chiudere che se volessimo gettare uno sguardo sulla immagine che i romani elaborarono del regno dei morti come lo si potrebbe definire non vedremmo che una grande e inestricabile confusione cioè prima che Dis e Proserpina arrivassero Plutone e Proserpina arrivassero dalla Grecia a mettere ordine nel regno degli inferi quel mondo agli occhi dei romani nella percezione che l'arcaismo nebbe era un mondo opaco scuro misterioso abitato da questi dei mani temibili sempre spaventosi destinatari tra l'altro di alcune pratiche cultuali molto specifiche ma non è possibile davvero ricavarne molto di più non è possibile neanche sapere se se lo immaginassero in qualche modo era semplicemente una dimensione da neutralizzare da tenere alla larga da questa che è la realtà dell'uomo da questa realtà che è la nostra ed è l'unica possibile perfetto allora abbiamo messo tanta carne al fuoco per rimanere sempre in tema di sacrifici però spero che spero che in qualche modo siamo riusciti a così chiarire alcuni punti alcuni aspetti c'è veramente tanto siamo stati forse anche un po' troppo lunghi per cui professore di nuovo grazie mille per il tempo la disponibilità e questa chiarezza con cui ha spiegato queste cose grazie grazie a lei e invito tutti naturalmente a commentare condividere mettere i like e naturalmente alla prossima grazie a tutti grazie a tutti